O Gesù di sempre, chiamo a te, salvo a te. Questa mostra nasce dal nostro desiderio di continuare l'opera di padre Romano Scalfi, un sacerdote trentino che nacque nel 1923 e mentre era in seminario nel 1946 scoprì che la sua vocazione di diventare sacerdote era legata al desiderio di dare la sua vita per la Russia, la Russia che all'epoca era l'Unione Sovietica comunista e non era più o non veniva più riconosciuta come la Russia cristiana. Padre Romano ha speso tutta la sua vita, è morto nel 2016 a 93 anni, per far conoscere e far amare anche in Occidente la ricchezza della Chiesa russa. I valori sono innanzitutto una concezione totalizzante dell'uomo, dove l'uomo non è semplicemente la sua intelligenza razionale, così come lo vede l'illuminismo, ma l'uomo è un cuore, il cuore che però non è il sentimento semplicemente, ma il cuore è la sintesi della ragione, della volontà e dell'affezione. E poi una visione del cristianesimo si dice sobornica, cioè comunitaria, dove l'accentuazione non è mai soltanto sulla salvezza individuale, come è spesso in Occidente, ma è sulla salvezza della persona che appartiene a un popolo, a un popolo credente. Grazie. 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 Grazie.